A non più di 15 giorni dalla scomunica di Papa Francesco ai mafiosi non mancano le reazioni, purtroppo non del tenore auspicato dalla Molise alla Calabria. Il primo segno di protesta è quello dei detenuti della sezione di alta sicurezza del carcere di Larino, che si sarebbero rifiutati di partecipare alla messa. Inutile, a parer loro, prendere parte alle funzioni se scomunicati perché i mafiosi. La seconda ribellione alle parole di Francesco, forse in Calabria, e proprio in occasione di una celebrazione religiosa. La Madonna delle Grazie è in processione, seguita da decine e decine di fedeli. Poi l'inchino, dinanzi l'abitazione dell'anziano presunto boss del paese, Giuseppe Mazzagatti, 82 anni, condannato all'ergastolo per omicidio, estorsione e associazione mafiosa ai domiciliari per motivi di salute. È accaduto ad Oppido Mamertina, piccolo centro del regino balzato su TV e stampa nazionali e non. La processione è partita regolarmente dalla piccola chiesetta di Tresilico, con in testa gli amministratori comunali, alcuni sagerdoti e i carabinieri. Giunti nei pressi dell'abitazione di Mazzagatti, l'uffice della Madonna si è fermata per mezzo minuto. Quando il comandante della stazione dei carabinieri, il maresciallo Andrea Marino, si è accorto di quanto stava accadendo, è uscito dalla processione ed ha avviato le procedure per l'identificazione di tutte le persone che stavano partecipando al rito religioso. La relazione fatta dagli uomini dell'arma è ora confluita in un'informativa che gli investigatori invie e hanno alla Procura della Repubblica di Palmi e dalla DDA di Reggio Calabria. Indignato, il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha etichettato quanto accaduto come deplorevole e ributtanti rituali cerimoniosi. Quante è avvenuto sconcerte a Dolora è invece il commento di Rosi Bindi, intenta ad assicurare l'impegno della Commissione Antimafia nell'approfondire i fatti sulla cui interpretazione restano al momento vari dubbi. Come quelli esternati dal sindaco di Opido Mamertina, Domenico Giannetta Stamani in conferenza stampa ha infatti inteso chiarire la sua posizione precisando di aver agito secondo il buonsenso nell'immediatezza, restando in processione per non creare disordine pubblico. Se ci sono stati gesti non consone, ha precisato, siamo i primi a prendere le distanze, ma ci pare che durante la processione sia stata ripetuta una gestualità che va avanti da oltre 30 anni, con la vara rivolta verso una parte del paese. A parer suo, quindi, quel gesto potrebbe non rappresentare un omaggio al boss ma una semplice ritualità. Ora sarà forse l'antimafia a far luce su quella che è già balzata agli onori della cronaca come la processione della vergogna.